Che cosa si intende per Stroke Unit? Pare che ovunque ci deve ormai essere una parola in inglese. Significa semplicemente reparto cura intensive. Lo Stroke Unit in ultima analisi nulla è seno non un reparto in cui lavora un team di specialisti, infermieri, psicoterapisti, logopedisti, terapisti della riabilitazione e medici specializzati nell'ambito dell'Ictus e che pertanto sono in grado di eseguire una rapida diagnosi e intervenire in tempi rapidissimi. Che cosa avviene in una stroke unit? Qui vengono ricoverati tutti i pazienti con un episodio acuto alle spalle, ovvero laddove l'ictus sia verificato al massimo nelle 24 ore precedenti, oppure pazienti con sintomatologia instabile, con sintomi che migliorano, si aggravano, migliorano in maniera altalenante. Dopo il ricovero si procede subito con una fase diagnostica, viene eseguita un'attacca in assenza di acchimosi. Se il paziente arriva al pronto soccorso entro tempi adeguati, ovvero 4-5 ore, si procede con l'intubazione in assenza di condizioni ostative. Poi si procede con il monitoraggio dei parametri vitali che, è noto, possono peggiorare in caso di ictus. Si tiene sotto controllo la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno nel sangue, la respirazione e la temperatura corporea. Il paziente viene quindi collegato a un misuratore di pressione con monitor e segnale acustico costante. Che è fastidioso, ma è necessario perché dobbiamo intervenire subito se la pressione sanguigna aumenta o diminuisce. Allo stesso tempo si inizia subito a lavorare sui sintomi. In caso di paralisi importante interviene la fisioterapista. Se si ravvisa un importante disturbo del linguaggio, viene coinvolta la logopedista per lavorare intensamente, fin dall'inizio, sulle funzionalità che sono perse. Si cerca inoltre di prevenire le complicanze secondarie, evitando l'insorgenza di trombosi, ad esempio. E quando il paziente è stabile, a seguito di ictus, quindi generalmente dopo 3-4 giorni, viene trasferito al reparto di degenza, dove si proseguirà con le varie attività di riabilitazione.